Regia, stiamo andando, andando. Come si fa a traspare? Beh, partiamo con la sigla di Radio Dancing, casa mia, da Gipon Gipon. Grazie a tutti. Bene, sintonizzati su Radio Dancing, casa mia. Quest'oggi abbiamo un ospite molto importante, eccezionale, vero Regia? Dopo la squadra? Eh, lo sai come si chiama, vero Regia? Ti trovo la squadra? Brava, è una bellissima Regia, ma sei tutto, né? Bravo, 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 bravo. Allora, oggi in un studio abbiamo un ospite importantissimo che ha fatto un percorso importante da Dottor Meluzzi, vero Regia? Regia, dove si trova nello studio di Meluzzi? Dottor Meluzzi? Dottor Meluzzi? Ah, capito, dai. Allora, l'ospite importante si chiama... Diciamocelo. Ma Regia, cos'è questa interferenza? Eh? Cosa stai facendo? Diciamocelo. Regia, ma cos'è questo rumore, questa voce? Mi sembra di sentire in gnazzo una rossa. Eh, Regia? Ma Regia, rispondi? Sì? 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 Eh, ma che fai? I messaggi sui mutandami in ali? Eh? 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 Hai sentito una voce strana, eh? Diciamocelo. Dottor Meluzzi? Regia, ma cosa stai combinando? Ma cosa combini? Dai. Carissimo, stacca questa cosa, dai. Regia, ma cosa stai combinando? Non c'entra niente, però non si sentono le voci strane. Mi sembra di sentire anche il Berlusca, eh? Ma, vabbè. Comunque, ritorniamo di nuovo in studio. Oggi, ospite eccezionale, in studio, fatto un percorso di Dottor Meluzzi. Regia, dov'è già nello studio di Dottor Meluzzi? Dove potete andare a spazio? Ecco, in piazza Vittorio, eh. Ha fatto un percorso spirituale. E poi, regia, ha fatto un percorso spirituale. Se potete andare a spazio? Ah, anche di vita. Bravo, regia. Bene. Bene. Adesso, scusate, quando adesso iniziamo, bene, vogliamo sentire anche lì, l'ospite, eh? E' vero, regia, eh? Sentiamo anche l'ospite. Come si chiama l'ospite? Ecco, l'ospite si chiama Me-Hen. Ecco, adesso sentiamo, diciamo carissimissimo Me-Hen. Allora, presentati, dici qualcosa di te, dai. Me-Hen. Ah, ecco. Hai detto il nome e cognome? Me-Hen. Ah, ecco. Bene. Raccontaci la tua storia, il percorso di vita, è fatto, dottor Meluzzi, soprattutto, che facciamo un po' una pubblicità subliminale, eh? Bene, dai. Ricordati che siamo su Radio Dancing a casa mia, e come mi chiamo io? Me-Hen. Ecco, Gippo Gippo DJ, bravo. Bene, raccontaci. Me-Hen. 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 Ah, ecco. Allora, che dottor Francesco ti ha seguito da piccolo? Me-Hen. Ah, dottor Frankenstein. Ah, ecco. Me-Hen. 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 Ah, ecco. Beh, regina, hai capito cosa dice? Sì, ma adesso è bravo. Eh, allora, è nato da piccolo, gli ha fatto un intervento, e poi è cresciuto. Adesso si sta bene, e però fa un percorso da Meluzzi. È vero Me-Hen? Me-Hen. Eh, vedi, e poi cos'è successo? Me-Hen. 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 Ah, adesso sì. Ascolate, cari spettatori, vi spiego bene. Allora, ho fatto questo percorso, e poi fa la vita normale, e abitare dove? Ah, casi popolari, vero Me-Hen. 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 Eh, abitare cari popolari, e prende, cosa prende? La sociale, vero? Me-Hen. Me-Hen. E come fai a pagare i Meluzzi? Me-Hen. 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 con i soldi della regione. Bravo. Bravo Me-Hen. Carissimo Me-Hen. Bravo. 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 Capitano di Gia. Vedi che? Me-Hen. Mi se ne intende? Ma dove? Non so, ma dove? Eh, beh, Me-Hen. Lo so, eh. Bene, con questo possiamo dire che il programma si sta per evolgersi alla fine. Comunque ti ricordo, Me-Hen. Sabato sera siamo al patio. Ingresso gratuito e gran mornia volontà. Mezzanotte ricordo, Me-Hen. Sogliola con la mugnaia. Tu ricordi, Me-Hen. Me-Hen. Bravo. Ti raccomando, siamo al campo molto al dengrando, spiritual dance, eh? Ricordatelo. Mi raccomando, eh? Cerca di esserci, eh? Me-Hen. 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 Ma te tranquillo che si balla da morire, eh? Eh? Mi raccomando, cerca di esserci. Perché ti faremo anche lì. Ospite eccezionale, eh? Sei d'accordo? Me-Hen. Bravo. Regina, cosa facciamo? Che pezzo mettiamo adesso, regia? Eh? Cosa dici tu? Ma tu un pezzo si può fare? Eh, no, ma metti un pezzo come si deve, dai. Regia. Che pezzo possiamo... Eh, anche per... Eh, eh... Eh, eh... Regia, ci sei? Diciamocelo. Ma ancora con questa voce? Ma chi è? Regia? Ma che fai messaggi subliminali? Eh? Bravo, regia. Ma è molto brava. Fai messaggi subliminali. Bene. Allora, vi salutiamo. Radio Dance in casa mia. Vi saluta e arrivederci a tutti. Ciao da Gippon Gippon. Brava, regia. Ha messo un pezzo di Gigi Agostino. Bravissimissimo. Brava. Ma sì, ma che è questo? Ma questo è... E Gigi Agostino. E Gigi Agostino. Ma proprio, 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 buonissimissimissimo. RUNY DANCING IN CASA MIA. 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 regina di Gesmondo, è vero, è vero, è vero, buona regina.